Se siete qualificati e se siete anche primi, obiettivo raggiunto? Sì, diciamo che volevamo raggiungerlo oggi, volevamo fare punti oggi e poi c'era la possibilità di farne tre, star davanti, si è stati bravi, li ho sofferto, forse un po' troppo si è con un tempo, però contro ovviamente c'è una gran bella squadra, bisogna sempre ricordarsi la loro comunità, capire da dove veniamo, noi veniamo comunque, noi con questo gruppo da due anni provinciali, quindi era già un bel traguardo arrivare ai regionali, stiamo crescendo, rispettando la partita, fino ad aver subito poco a livello di gol e non l'abbiamo ancora perso, quindi vuol dire che i ragazzi stanno facendo bene, loro stanno facendo la squadra, adesso vado a vincere, noi stiamo davanti, ci siamo fatti l'accolino in bocca e cerchiamo di tenere questo primo posto, anche con la partita di sabato, anche se siamo già qualificati, però intendo che i ragazzi capiscano che ogni partita è importante.